a io con la zombie saw e la crossbow com'è che si chiama quell'arma scusa zombie saw saw visto ottenzione perché questa qui è un è un come si chiama è un mio la situazione un corso da prezzo mi sei se mi sono una dedica ecco una dedica mario di tecnici 90 prima vallociciotto tutti dimmi fra mi raccordi sto mirando ulti predatore per cammini corretta non è negativo no no remington io cammino se miro e ok sto arrivando fra sto arrivando fra no ma ti sento una laggata mentre fra è andata a terra non so perché io tiro le laggate lui fa tirare le laggate a attenzione fra adesso si riavvicina no attenzione zombie veste in testa no zombie veste l'ultimo anzi ok bene attenzione che holz rimane in testa occhio che lì è tutto baggato attenti a come mi muovete qua che è tutto baggato vi ricordo allora fra io tiro fuori la mark 2 vai pensateci voi vai 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 petter vai 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 jambu vai jambu tiralo su ah ok muoviti e se ci fosse anche fra oh c'è dietro il culo oh c'è dietro il culo vai tranquillo 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 bene 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 fatta qual è quella che fa correre velocissima stamina stamina esatto dove cazzo nooo finiti i colpi devo tentare una cassa ok qui la cassa fra fammi fare cassa e copri fra eh si 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 copri fra eh c'è un G qualcosa che non sfide no al pp 19 non lo voglio voglio lo zeus veloce perchè io non posso ghiacciarli all'infinito eh muoviti fammi fare lo cassa voglio lo zeus insieme alla mark 2 e poi come poi me lo da secondo me aspetta aspetta UMP 45 aspetta e continua a far cassa madonna ragazzi stanno arrivando un casino veloce perchè qui non riesco più a ghiacciarli e ora mini Uzi Uzi guarda non fa un cazzo non fa un cazzo poi è mini uh la UG ragazzi corrette vabbè ma vi iniziate tenendo tutti voi la eh ah balestra giriamo il senso orario no vi tiro un po' di frecce di balestra per agevolarvi ma che cosa m60 no 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 sto per finire i colpi sto per finire i colpi ok bene è sparita la cassa comunque ho la m60 va bene io devo ricaricare devo ricaricare qualcuno mi sta a dire dov'è anche la stamina eh da lì davanti alla porta è la corrente dal lato delle scale si ho recuperato ho recuperato ho recuperato cazzo vai 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 provi a se manterlo su ho finito già i colpi della mark 2 è molto bene no ho finito i colpi che cazzo sta a dire che cazzo sta a dire ho finito i colpi non ho più niente grazie grazie a me si trova al spawn ma ecco anch'io vado a prende no io prendo il quick revive si anzi la stamina no quick revive prendiamocelo tutti in quick revive che è importante che ce l'abbiamo no dove è la stamina è qua la stamina qua 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 dove sei ma ecco ancora ok la cazza ora dov'è ma che cazzo è ma me sorvolo ammo ragazzo è una cazza assolutamente dammi la tua forza cazza bene vado a prendere quick revive stoner bello no lo stoner lo stoner dio bono lo stoner ma cazza è quick revive questa mappa casino senti che roba vado 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 è un posto di merda è un posto di merda aiuto no è vero si gira bene quel mezzo dai è gigante è enorme se gli zombie non fossero così incazzati credo un caff entiere ma non vedo cioè guarda che che incazzati che sono sti zombie oh vado vai vai l'M14 non fa un caff non è che l'M60 adesso non fa più un caff io devo aprire sono costato ad aprire uccide ma cosa si costretta aprire questo controllo cosa cazzo aprire eh guarda qua 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 sta arrivando il mondo si perchè hai aperto perchè hai aperto se non arrivava il mondo che stolto oh il comando spero sia forte lo stoner me lo faccio che di culo ha il comando augi va bene oh sto continuando a far cassa trovo sempre la solita roba stiamo in due no aspetta tu hai avuto la rinculo di nuovo il cecchino fanculo lo stoner è fortissimo la UG è un rinculo ingestibile si no l'avevo avuto prima io beh oh ridendo e cadendo a terra siamo a round 18 ridendo e cadendo a terra g3 si quest'arma era proprio l'arma che volevo l'arma muro che qui mi hai preso per sbaglio si si guardate le file però le si sciottano bene qui eh c'è le file muoiono facilmente con la mark 2 oh adesso mi paca pancio lo suona appena peschi i colpi si lo capino ho capito oddio mio che rinculo beh neanche tanto dai pensavo peggio non fa un cazzo ma 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 il tempo è bello giocare con la cappino io continuo a farmi cassa è giunto il momento di paga panciare per jumbo questa cassa si sposta troppo spesso sono cinque armi a volta credo si appunto no beh è a random di solito ma ma pingo si sposta spesso 5 round ve lo dico dai fate un bel gruppone che ci penso io guarda ecco lui arriva pericero tutti ecco dov'è la cassa eccolo la su le scale sulle scale sono passato sono passato sono passato fra pacca pancio pacca pancio vado a fare un cazzo devo cambiare sta capino il cazzo eh no 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 non dirmi che non hai ripreso l'arma perchè si l'ho presa ho lo stoner tomof oh tiratelo su tiratelo su ho la winter ho la winter ok sta arrivo arrivo anch'io però io sono lontano eh io sono ancora a cazzo ho convinto arrivo arrivo prima 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 lui fatto adesso con lo stoner devasto non è vero non fa nulla lo stoner ti copro frà ti copro frà ti copro frà ti copro frà vai 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 a gelarli tutti grande grande andiamo cene da qui via da qui aaaah non ho punti per il jug non he là merda non ho punti per il jug tutta il jug eh sin frutte poco mi dicono bene andiamo 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 attenzione classifica aggiornata L'ultimo, io No, no, io sono in testa Sì, lui è in testa, io in testa e in perdita Cioè, ultimo No, io sono l'ultimo No, io sono l'ultimo, tu hai 4 Ah, sì, è l'ultimo Sì, sì Vincitore Vara perdente Esatto, vincitore vara perdente, ma non è ancora finita, eh Sì, già il 19 Attenzione, non è finita No, no, mi arro, mi arro, mi arro Lo stunner fa cagare, è altro che arma forte, fa schifo Sì, ok, ma non fa un cazzo Tu, 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 quanto vuoi, ma se non fa un cazzo Eh, vabbè, dai Emotiziona comunque Eh, con gli sta kill va A me servebbe speedcall, altrimenti non riesco mai a ricaricare Quindi, devo farmi 300 punti Lasciatemi fare 300 punti Io devo farmi cassa Eh, dove si tor- Dove torniamo a girare, boo Ah, boo, noi abbiamo mai girato in un punto Beh, eh Lano No Si va alla terra di un cazzo, eh Stai calmo, stai calmo, Jambu Mettiamo una calma A capino Sempre le solite armi di merda Non riesco a centrare una porta Non riesco Sì, ho che non centrare la porta che ti fa caderti sotto Beh, magari quello fa qualcosa A differenza di questa capino Che ho adesso io in mano Allora, se vado alla terra Sono nel... Oh, merda Dove cazzo vado Sono dove c'è la più o meno Il pack a punch E' un po' di più o meno Sempre le solite armi di merda Ci ciuffa la neve Quanta neve c'è qua Ho tutto bene Eh sì, è vero Conte neve c'è La buffera Ecco, ciao No, invece no, invece no Per un attimo ho pensato che tu fossi caduto nel vuoto No, no, no Allora ti avrei ucciso Sono stolto ma Ma non Ma mai come fra Ma come Ma come Sisto 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 Io non sapevo che Cadevo la moriva Non Sisto Se mi pacapanciassi La Winter Madonna mia Troppo incazzati sti zombie Pacapanciala Winter Per il nome di tuo padre Di tua madre Pacapanciala Pacapanciala Aspetta No aspetta No 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 Non ci credo Questa cosa come la voglio vedere Aspetta Cosa No Non devi scovare qualche bug Cosa Che hai fatto No che figata Io amo questa mappa Posso avere più di 4 bibite Ah ok E come fai Guarda che trovo Guarda che trovo Il mirino later Guarda Non lo vedo Io non lo vedo Non lo vedi Io lo vedo Vabbè Ho comprato questo Ho comprato questo E mi da il mirino later Ah il deadshot Sì Almerino later Nella Regal Che figata Sì Il Dragunov Abbiamo vinto No Sì Sì Il Dragunov Oh cazzo Oh cazzo Oddio Shot Ho ucciso una fila Con i colpi che avevo nel caricatore Una fila Guarda che mi accumulo un po' adesso Adesso faccio Spam 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 Se ne ho gelati Se ne ho gelati Decidevo lo stesso Però Adesso ne posso provare Che sarebbero morti Adesso Spam 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 Epica Spam Spam Epico Cazzo No 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 Lo sapevo Ok ci penso io Senta di risultare Senta di risultare Fa ancora No si è sotto cazzo Bisogli devi andare a terra Vai vai ti copro Vai vai Devo pacca panciata della winter Potevo coprirti anche col dragon O va a dirti la verità Ma sai Morita figli di satana Perché esca qualcosa di forte Lol Che c'è sta roba Devo pacca panciata della winter Com'è? Hellfire si chiama Molto bene No No Non dirmelo Ah ok Cosa Vedo dei cast Mi sa che è lanciafuoco Allora Eh proviamo Lanciafuoco Lanciafuoco Dietro 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 Giambone 1 Guardate Non c'è più Vabbè Vedete la bomba Fate quello che volete Lasciatelo provare con l'arma Lanciafuoco Dietro 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 Giambone Guardate Boom Non ho mancato È lanciafiamma Ok molto bene Questa è una genialata E ha tantissimi colpi Ne ha 57 Beh Sui gruppi magari è devastante Dov'è la cassa? Questa M ha 32 shotta Di qua Jambo Hai già paravancato la Mark II Ti penso io No LOL Eccola LOL Gli hai dato fuoco LOL Non ti lagga il gioco Quando c'è il fuoco Jambo Non ti lagga il gioco Col fuoco Me l'hai mandata Tu non morirai Guarda Madonna mia Prendo un fuoco Proprio Dove tannazione è la cassa Però Qua Sotto Cazzo Mi ha prendo più un cazzo Sta mappa Mi sta ricogliendo Ok Andiamo a dire lo stunner Che mi è stato molto utile Da zombie su non fa più un cazzo Invece il dragon Dove in testa shotta No No Cosa Ho appena dato via lo stunner Che ha panciato per prendermi Un mitraione Eh vabbè succede Ma la fa Aspetta Aspetta Dagli fuoco Dagli fuoco Ci siamo dal tutto posto però Vai tu rianimalo Rianimalo No rianimalo Che noi abbiamo le armi forti Oulz In sovraimpressione Oulz Muoviti Rianimalo Basta che rianimate Si sta Ah dove cazzo sei Pensavo forse qua io Pensavo forse Vado io Vado io Qualcuno vada Vai ti copro Non molare Non molare Cazzo Io pensavo forse là sulle scale Io Non l'ho visto Ho visto male Ci è mancato molto poco Fralo sai Lo so Non possiamo girare tutti qui Facciamo girare tutti qui Peggio della lancia fiamme Cazzo Ok ok siamo qua Tutto a posto Tutto a posto Franci vuole vincere la sfida Eh si Frasta Sta rimontando No Mi stai facendo laggare Mi stai facendo laggare Mi hai fatto laggare Forosamente Ho perso FPS In una maniera impressionante Quando mi hai fatto prendere fuoco Poi ho il gioco su extra E' quello che ha salvato tutti Ho il gioco su extra Ho tutto al massimo E quando E quando c'è fuoco lagga Madonna però sono in testa Quasi al kill No devo recuperarlo Oh sono io in testa Attenzione che non si Che pelo Tu neanche mi aiutavi Ah bastardo Come sei a Ah no sono anche io in testa Con auto Gli effetti delle armi Merda Devo pagavanciare la Mark 2 Siamo a fine 20 intanto Gli effetti delle armi sono bellissimi Ah si si Io ho da pagavanciare la Mark 2 Devo pagavanciare la Mark 2 Assolutamente Vai copri fra che pagavanzio Vai Molto bene Vediamo cosa ha di più Porter's Mark 2 Molto bene Non hai l'arma Non l'hai in mano Non ce l'ho in mano Non hai in mano Io la vedo invece Il drago Non lo vedi almeno E' una figata di arma L'arma più bella di tutti C'è l'io ragazzi Scusate ma quella Questa qui che lancia Lancia l'arma Ci vorrebbe la thunder gun Che Oh io devo cambiare il drago Non mi aspetta E vado a prendere la thunder gun Adesso Ma c'è Bah si l'ho vista Passare dalla casa Più di una volta io Anche io M40 A3 Dov'è che Che è la cassa La cassa è ancora qua giù Ah Ah era là Ok Che cazzo è successo sto Oh dai che ho finito i colpi del drago Novo Prendi 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 Ma che car Che vuole è Che vuole fa Bombone Sì La winter La winter Oddio Siamo imbattibili Siamo imbattibili Siamo imbattibili Beh ragazzi Possiamo fare più di un round 25 sapete Eh sì Con queste armi qua si è Siamo imbattibili Mi stacchi il però Non mi ha tanto forte Cioè la winter Ti prego Pagapancia la subito Eh mi faccio i punti E la pagapancio Sì sì La spray io E poi la pagapancia Siamo imbattibili Adesso voi dovete Prendervi la thunder E poi siamo a posto Ma c'è veramente Sì l'ho vista Passare dalla cassa Adesso ci sta attento io Vabbè tu hai già armi Decenti Oddio no No beh un mitraione Ma provare a me Ti prego Ma dov'è la cassa adesso Da me Da me All'inizio All'inizio Adesso queste armi Devo sparare per forza Con armi forti Non posso usare altre armi Cazzo Frenci ti porto No non è vero Non porto nulla Voi in bledete Prima Madonna Ho finito i colpi Mi sarebbe forza cassa Frenci scusami Ma te li do poco Guarda quello più 570 punti Chi era fra Oh adesso farò poche kills Però cazzo Con ste armi Prima col mitra Ne facevo tanti di più Ora quanti punti mi ti facendo Lo al più 1150 Io mi faccio anche una balestra Così quasi Voglio vedere se funziona Come l'effetto scimmia Giusto hai ragione Sì hai ragione Pagapancia Prova prova Che tu la fa comodo Tutto a posto Tutto a posto Sotto controllo Aspetta che faccio il quick Con la balestra Winchester Io devo prendere la speedcola Cazzo Se no a caricare sto troppo Quella winter carica subito Bene sto già finendo i colpi Della winter Che cazzo è stato sto rumore No Ho sentito un rumore simile a una bomba Ma non ho capito che cazzo era Era la mia arma Per cazzo Ah ok Va bene Io sto facendo Il quick con la balestra A k47 Beh questa non è male Ma non era Dove è il paga pancia Allora ancora lì Allora situazioni classifiche Zone best 5 Alls 8 French e jambu 7 Molto bene Quindi io sono un attimo French e jambu in pari posto Che sei il paga pancia All'inizio Devo paga pancia 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 Dove cazzo è all'inizio Ho fatto 6 volte di fila cassa E non mi è uscito nulla di interessante Vabbè quante volte l'ho fatto io Prima cassa Non sta Non arrenderti È il fire Molto bene Ah già dal nome jambu l'avevi capito Eh sì Perché ho visto il gas poi Ah sì è vero Il gas davanti Che ficata è Che ficata è Se ci fosse veramente Di tutti i zombie Un'arma epica È fantastica È bellissima È bellissima Bellissima Poi li shotta Il bello Sì sì vedo Vedo Li shotta su serio Per adesso Ah ho sacchiato Sono solo gli uglietti round È solo questo Finchia Facca pancia è sopra Guardala Lol Dov'è la cassa adesso? Ma che roba Non so Non voglio subito Non voglio subito Cazzo Aspetta ci penso Ecco mi stavo bloccando Sì infatti mi stavo Mi avevamo bloccato Buona proviamo a pacca panciare la balestra Ecco prova prova Giambu vai ti copro io Ti copro io Vai dentro Magari lancia tipo Magari è tipo scimmia Vai vai dentro Giambu vai tu vai tu Vai pure E qua il pacca panciare Ah no dove cazzo è Si è fatto un giro strano Sì si è fatto un giro strano Sì si è fatto un giro strano Ah no no si è spostato Vai 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 Qualcun di voi Eh in fondo lì Niente Oh mira stabile LOL Se lanciasse dardi luminescenti Dov'è la cassa adesso? Eh qui dalla Da giag No Jambu è di qua il parapance No Jambu è di qua È qua Ah l'ho visto l'ho visto l'ho visto Ottava Settima volta Oh magari si può poter piacere anche più di una volta No vabbè più di una volta Però proviamo la balestra Vediamo tanto Sì vediamo se Meglio M60 Wicked Bob Siamo uguale Prova a sparare un colpo Per cosità Per cosità Sembra normale Provo di vedere se fa l'effetto Prova Guarda via lo zombie saw Per No non fa nulla Non serve un cazzo Sì li hai estroditi un attimo Prova a sparare un altro Scusa che non ho Vediamo Paralo per terra No 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 assolutamente no Oppure sì Ha cambiato strada di colpo Ma non riesco a capire Perché siamo tutti qua Ma che cazzo Francia mette il turbo Attenzione che Fra passa quasi in testa La bomba non serve A pari merito con Holmes Non fa un culo La bomba non serve Non cazzo in questo gioco Oh è vero Francia a pari merito con me Esatto Quindi attenzione perché Qua si rischia Cioè è conteso il posto del vincitore Emo Scusate Bello Ah si li ferma Se tu gli attacchi a uno Si Si ferma Si ferma Beh infatti mi sembrava di aver visto Che si fermassero Oh i Siragulov Mi sembrava infatti Mi sembrava Io semplicemente Non mi guarda quanti punti mi faccio Dove è che sei Dove è che Lol 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 1670 Molto bene Ti devo semplicemente Beccare Si si ho visto Si ho visto che si fermano Beh è bene Però sono comodo Cane Si scusate Salutiamo il cane Di French Salutiamo il cane convinto Si si vuole far sentire Eh si Io neanche l'avevo sentito Sì che non l'avevo sentito Madonna Lol Lol Molto bene Devo solo fare Beccari di zombie È semplice Perché poi è l'ultima volta a cassa Poi mi Uso quel che ho trovo E' il G36 E' il G36 G36 fa cagare Non mi interessa la mia arma preferita Fa cagare Ma va bene No Allora ma qui che cosa che cazzo Che hai con queste lanciafiamme Poi non ho ancora capito fra come cazzo hai fatto prenderti la Mark II Da quell'armadio Io prima ho sparato in un colpo in un armadio Si è aperto ma non c'era nulla Come sempre Ah beh è chiaro A noi non c'è nulla ma fra Perché io uso yak Sì 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 Fai c'ho le granate Verdi Ti diamo un po' di granata a casa Lascia qualche zoppo così posso farmi cassa in pace Molto bene Beh è utile la balestra Perché secondo lì Ah io odio col staccato di bomba Non mi ha salvato qualcuno Ancora con la bomba lol Fra è rimasto scioccato da quella bomba Eh sì Ma non mi metto un angolino a piangere Fanculo lo ha domintato per il filer In effetti il G36 fa schifo Bravo Attenzione che Già Zombie Eh no È in frontezza Eh zombie è tanto giù Un caricatore per uccidere uno zombie È l'host Zombie è l'host È l'host con 8 di ping ragazzi In chiaramente 8 di ping Best ping è U No no Non mi uccidete Fronto Fanculo Sparo tutti i colpi di Reagan Non mi uccidete Lui è super connessionato host Che deve solo gestire una connessione land Anche uccisione Anche uccisione Stai avanti Ma adesso ti recupero Ah sì sì Cazzo no mi stai prendendo Fermo fermo allora Ogni uccisione è preziosa Io sto recuperando Un dei gammie che non fiamma Guarda l'ho qua lui Oh mi è stata scelta già di più Ho qualcosa là invece Eh lui è rimasto un po' indietro Lui è rimasto un po' indietro Sì però infatti ho avuto armi veramente spingiate Sì sì beh ha avuto armi veramente pessime No ti prego no Stai fermo dall'antizione di odio Non li posso vedere Non li posso vedere No ragazzi io non vorrei dire Ma mi sta vedendo Un crampo al braccio sinistro Olè Molto No a me è al destro Ma che cazzo è successo No Che cazzo è successo Ma che cazzo Cosa è successo Che cazzo è successo Ma che cazzo Ma che cazzo Ho fatto casa È venuto lo sacchiotto E poi mi è ucciso Aia Aia No No No, te l'ha cambiata al bruciafiamme, a me invece non ha cambiato un cazzo per fortuna, perché se lo bestemmiamo Sono stato per un attimo senza armi, ho detto ma che cazzo è successo, poi tornano, rega mark 2, vabbè io ce l'avevo già Ragazzi ma che cazzo di mappa abbiamo scelto Che cazzo di mappa ci avete proposto No, mi aveva cambiato la mark 2 con una mark 2 non potenziata E adesso l'ho ripotenziata cazzo, ho buttato via 5.000 punti Ma cosa è successo, io che quando superi in questo round te la da No, però è bella quanto vuoi però il lanciaziamo è imbattibile Ah io ce l'ho ancora No Percorari Giambusto è calmo No, 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 a me quando mi tolgono la mia arma preferita Eh lo so, ma te la puoi sempre riprendere facendo 50.000 casse Come faccio io Come è capitato al povero Alls che non si è beccato nulla poi Vabbè questo è un dettaglio Lasciate questo povero Zoppo Cazzo che merda sto coltello Ma è finito il round eh Ma cosa? È appena iniziato È appena iniziato devo dire C'è una bella differenza È finita è appena iniziato Eh ma lui ha detto lasciate uno Zoppo Beh c'è lo Zoppo la che cammina tra il giambo ma è superato a kill Come ho superato a kill? Ah sì Intanto ho anche ne ho doppiato No, 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 nessuno C'è doppiato nel senso Io sono la 377 e 40 Non mi piace la rinforzo Sparafiamme Quale? Dove che sei? E' amore a prima vista Eh Giambù succede Comunque questa mappa qui è abbastanza recente C'è avrà un paio di mesi No, no, un paio di giorni Il 10 settembre No Di caso Ah è stata veramente Sì sì è appena stata rilasciata Noi siamo proprio i primi beta tester Sì esatto beta tester Fin del bug Eh appunto magari non si è accorto dei bug Sì sì beh ma è uscita poco in effetti Cioè 10 settembre era la data del post Penso che comunque sì Che comunque sia arrivato fino a questo punto E di te ci consigli Altre mappe giusto Altre mappe bravo No No basta Già con il suo modo Dove ho fatto quelle cazzo di bug Ho fatto una rega mark 2 E ora sto giocando senza jaga round 23 Come senza jaga? Non ho jaga Sì è andato a terra quando è successo quella specie di bug lui E perché non te lo prendi? Perché a cazzo serve Sì beh non serve a un cazzo Questo è vero No serve dai un pochettino Io faccio il bebe Sì no No Che sta succedendo? Noi dicevi nella sfida di chi andava più volte a terra era tra me e deve Mi sta veramente Ma se c'era deve sì Ma io voglio che vado a terra zombie No io non andrò mai a terra sono invincibile Sono troppo forte ragazzi Sì è vero troppo forte a terra Sì è vero troppo forte a terra Sono riuscito a vedere il tetto No Apriamolo ragazzi Apriamolo una porta a casa Dai che domani c'è GTA 5 Dai che domani c'è GTA 5 È vero perché Dai perché stiamo registrando il 16 settembre Ecco Il 16 settembre ore 21 e 51 Ma sono lì per una nuova bibita Pagia settezza È vero adesso scocciata 20 Io sono l'unico che è in questo posto qua Ancora non si può prendere il tetto qua Guarda Vabbè Si può prendere nel senso vai chiedi E te lo fai dare Ma Ha preso il deadshot convinto alls Cioè la mia convinzione di prenderlo per PS3 Avendo un Xbox sono ingenio capite Infatti sono ingenio Non è per un amico Vuoi sapere Che ti prenderà un controller Quando ti comprai un nuovo computer Si ma tranquillo Domani mi arriva quella mia Xbox E sono felice Domani Si Arriverà il 17 settembre Blablabla Si stiamo registrando Oggi che è il 16 Quindi domani sarà il 17 Voi che vedete questo video Probabilmente sareste già in ottobre Aspetta Adesso li lascio con un dubbio Ma è un live? No Basta Ci stanno scrivendo delle domande con scritto Ti stanno scrivendo delle domande con scritto Quanti anni hai Dove abiti E dove l'abbiamo trovato Questo barbaro 16 anni Mi piacciono i videogiochi C'è lo lungo 27 centimetri Se mi dici il codice fiscali A memoria Sei un grande TVX Cupa P7 9 12 In Tanzania E ha 5 bibite ragazzi Dai che siamo Manca un round al 25 Poi possiamo fare Voi sapete cosa? No possiamo arrivare al 30 No non possiamo andare troppo avanti Diventano troppo lungo No no Noi ci suicidiamo Quando io troverò un'arma Che non c'è alla rega Adio Prima voleva la rega mark 2 Prima voleva la rega mark 2 Adesso che ce l'ha No Non la voglio più No non mi lamento della rega mark 2 Ma voglio un'altra arma oltre Perché l'M60 non mi piace Cioè non so Ragazzi ragazzi Il PCD non l'ho preso io Il PCD non l'ha preso nessuno Mi fate schifo No io ce l'ho No io ce l'ho Funziona? Come funziona? Aspetta Non funziona questo punto Come cazzo si fa a usare questo marchio Questo questo PCD scusa fra Merda Vabbè non ho ancora provato L'ho comprato ma non l'ho mica provato Eh perché saltando dall'alto non funziona Lanciarti non puoi su World of War Non ci avrà pensato forse Hai un laser Io un laser sulle mani quando mi tolgo l'arma Sì è il Deadshot Vedo Aspetta fammi vedere È il Deadshot penso Quella laser che ingenti Togliti Togliti Occhio già a Mostrlach Lì c'è il punk Uccidili Una domanda Ma anche a voi la Mark 2 Pacca panciata è un colore azzurro Sì sì ha un colore strano La Mark 2 Pacca panciata Sì sull'azzurro Sì azzurrino Intrasparente E' vero Ma cosa non l'ho mai usata Sto usando Merda Only Mark 2 Che cazzo sai che le piace di Sì appunto non ho capito neanch'io Forse non ti fa danno da caduta Una madonna Cosa più inutile Come leggero pro Sì perché lo faceva anche su gli altri Ma oltretutto davanti a disposizione La casa dove è rimasta per curiosità Sotto alla casa Ah beh ma è inutile che la fate Tanto tra un po' qua No no io la faccio finch'io non mi becco qualcosa di power Oh merda Ma come corre Non fa niente Non fa niente Eh torna Attenzione Oh ma nessuno di noi è ancora scomparso nel corso di questo full gameplay Quindi attenzione a A non farlo in modo che succeda ora Jumbo Jumbo Perché ancora non ti ha ridotto in incona Ah no perché l'ho risolto Era l'antivirus Eh l'antivirus stolti ragazzi Madonna mia se è forte questa però che spara fuoco Insai Perks Con quinta giocare Vado a prendermi quick revive e dopo ho tutti i perk ne ho 6 Fatto Io non ho 3 Eh ma c'è LOL mentre beve il quick revive con il laser Io ne ho 6 ma non ho il quick revive zombie Ah sì cos'è che hai? Eh la double tap Ah dove è che è la double tap vero? Mi ho dimenticato la double tap Sotto cassa Sotto qualche parte ecco lì 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 a sinistra C'è un artigo Qui dove? Non c'è qua Sì dove c'è il glitch più o meno Ah sì è quello laggiù vero Fatto 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 Scusa l'ho rubata io Ho rubata io Ci ho evitato di prendere Un cannone Zeus Quella è karma baby Ho preso il cannone Zeus Però sta alla terra mi ha preso il cannone Zeus Oh provo paga pancialo subito Paga pancialo Fatti i punti paga pancialo Vai paga pancialo subito Guarda che posto che tira Vai paga pancialo subito Subito Jambo subito Paga pancia paga pancia Ma corre lento adesso Paga pancia perché adesso devi Dobbiamo chiudere Proprio all'ultimo Jambo Lasciatene uno eh Cosa cazzo è stato sto Scomparso la cassa vai Lasciatene uno Sempre quella la prendo io Prendilo LOL verde Che mimetica Prova Provalo su uno zombie Qua ce n'è uno LOL LOL Hai sparato Guarda L'ursu Non so Non fa un vortice No forse prima hai fatto il vortice Lui ci è passato in mezzo Dio buono che potenza Che ha fa laggare Quando spari Zeus cannon Guarda Boom Oh lasciatene uno Che adesso dobbiamo Fare il finale Spraia 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 Ah beh quanti colpi hai Brawl Bug Bug Non lo so ma non posso sparare Così perché se no faccio un casino Mi fai crashare tutto No veramente Funca Oh ma è finito questo round Non voglio essere Lasciamo l'ultimo a zoppato Però è peggio di un 40 su Black Ops 2 È veramente No No Andiamo il vincitore No Chi è andato giù No No Attenzione perché orse adesso è Invinci Città testa Copri Bene Ok ci abbiamo l'ultimo Affermo che è l'ultimo Giambu non ucciderlo Ok Penso almeno No Aspetta Fammi fare cassa Finché non Andate via Valle palle Ok Scazzare sto casino Bene Oh no Finito Oh no Rechiamoci dal luogo prestabilito No È il solito punto Il solito punto Dove è caduto prima Ulse Ulse In sovripressione Ulse Eccoci qua Sommi guardami Eccoci qua Guardate una laggata mostruosa Sì ho visto Ma sì Guardami stai Guardami No ho finito i colpi Dove cazzo è Ulse Eccolo qua Dai Ulse Ho finito i colpi Purtroppo Dai dobbiamo darci in via Ragazzi Dobbiamo darci in via Quindi direi 3 2 1 Tutti insieme Bene ragazzi Quindi Grazie a tutti per aver seguito Questo video Questa custom Map Comitissima Grazie a tutti Che è un live Grazie a tutti Grazie a tutti Quindi Da zombie best Facciamo best Francis best It all Best È tutto Ci risentiamo Alla prossima Custom map Bye bye Out But first I know It starts Inside Of me Oh If I can see it Then I can be it If I just believe it There's nothing to it There's nothing to it It's It's It's